Oggi sto andando a fare la ferrata 25ennale ai Corni di Canso e adesso direzione Rifugio Terz'Alpe. Non è una ferrata lunghissima, ho letto alcune relazioni e dovrei riuscirla a fare entro un'oretta. Altro ponticello, si intravede il rifugio, ultimi gradini e siamo arrivati, qua si persegue dritto. Altro ponticello. Altro ponticello. Altro ponticello. Altro ponticello. Altro ponticello. Altro ponticello. Sì, sì, sì. Sì 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì.